La gara valevole per il campionato italiano Rally e per lo challenge di zona e anche per il secondo Rally Automobile Club di Palermo dedicato alle vetture storiche. Luca Rossetti si ripropone una sfida con Paolo Andreucci che sarà il leitmotiv di questo campionato italiano. Su queste strade spero, mi auguro di darci battaglia e ovviamente dopo l'Adriatico abbiamo visto che c'è la necessità di arrivare alle gare che sono ora ridotte al 100% già dal primo metro e quindi abbiamo lavorato in quest'ottica. Vedremo domani i primi risponsi econometrici cosa ci diranno e poi se sarà battaglia non ci tireremo sicuramente indietro. Benissimo insomma. Allora grazie per essere presenti con questa Peugeot 207 del trofeo qui alla Targa Florio. Lasciano il palco Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia. Intanto l'onorevole Sparacino nella via all'equipaggio che ha vinto di più in Targa Florio con cinque successi. Sono qui sul palco di piazza Poligia ma attendiamo pochi istanti al via Paolo. Paolo subito una battuta. Paolo ci proviamo allora domani a infilare questa sestina vincente. Ci proviamo ci abbiamo una macchina molto competitiva ci abbiamo le pirelli che vanno bene speriamo sta un po' a noi ma sarà dura perché gli avversari sono molto forti. Passerai sulle tue madonie quindi avrai ancora uno stimolo in più per andare forte. Passerò da Scillato, passerò dove c'è la cittadinanza, passerò da Montemaggiore dove c'è il fan club. Questa terra li voglio tanto bene. Allora noi salutiamo Paolo Andreucci e Anna Andreussi vincitori anche del rally dell'Adriatico con la loro Peugeot 207 Super 2000. Adesso invidiamo sul palco Rudy Michelini noi ti lasciamo all'abbraccio della folla Rudy Michelini e Michele Perna corrono con una Peugeot 207 Super 2000. Paolo 5 vittorie e tu una domani devi accorciare le distanze allora. Marco! Eh ce l'ho tutta garantito. Allora noi salutiamo anche Luca Rossetti e Matteo Chiarcossi lo ripetiamo campioni italiani in carica e campioni europei in carica. e accogliamo qui sul palco Marco Signor e Maurizio Barone.